Primavera, tempo del risveglio e della rinascita. Ed è proprio nel primo giorno della primavera che è stato inaugurato bel gioioso nel Pavese il percorso per non vedenti, ipovedenti e soggetti con carenza d'orientamento. Era stato voluto e realizzato nel 2016 dal Rotary Club bel gioioso Sant'Angelo Rodigiano sotto la presidenza di Giovanni De Biasi. Vandalizzato è rinato quest'anno grazie al rapporto tra Rotary e comune di bel gioioso. A tenerlo a battesimo un giovane non vedente Alessandro Bonizzoni che ha ripercorso assieme ad alcuni rotariani il sentiero di 210 metri di lunghezza all'interno del giardino di Villa Trespi, struttura privata gestita dal comune che ne ha fatto un parco pubblico. Guidato da un'apposita fune, Alessandro ha toccato le targhe indicatrici realizzate grazie all'apporto di Nicola Stilla, presidente del club italiano Braille, installate a ridosso dei 13 arbusti odorosi sparsi lungo il percorso. Chi in primavera, chi in estate e chi in autunno, salvia, rosmarino, calicantus, maonia, filadelfus e bundesia rilasciano nell'area i loro profumi caratteristici, consentendo a tutti i vedenti e non vedenti di riscoprirli. Li ha indicati agli allestitori del percorso Riccardo Groppani, già docente all'Università di Pavia ed ora consulente del parco a da sud. Al taglio del nastro di questo percorso non poteva mancare, assieme all'attuale presidente del Rotary bel gioioso Sant'Angelo Lodigiano, Vittorio Gabetta, il sindaco della comunità pavese Fabio Zucca. Buongiorno a tutti. Oggi per i Rotary è una giornata fondamentale, una giornata importante, perché ricorre la giornata rotariana della salvaguardia ambientale. Il Rotary Club del gioioso Sant'Angelo ha voluto onorare questa giornata, dando vita, anzi ridando vita per la seconda volta a un percorso per non vedenti. Il percorso era stato inaugurato nel 2017, ma a seguito di una distruzione da atti vandalici era purtroppo in disuso. Oggi, grazie all'amministrazione comunale nella persona rappresentata dal sindaco, professor Fabio Zucca, grazie a tutti i componenti del Rotary e a tanti amici che ci hanno aiutato, abbiamo ridato vita a questo percorso. Approfitto quindi per ringraziare innanzitutto i nostri amici rotariani che ci hanno seguito in questa avventura, quindi soprattutto Maurizio Pavan che ha voluto fortemente questo progetto, Giovanni De Biasi, che ha lavorato alacremente insieme a Mauro Aldani e a Bruno Vitale per comporre questa splendida cornice che vedrete essere straordinaria veramente. Devo ringraziare Riccardo Groppali, professor Riccardo Groppali, che è docente merito dell'Università di Pavia, il professor Nicola Stilla, presidente del club italiano Braille che ci ha aiutato a fornire le targhette che voi vedete e vedrete in questo percorso meraviglioso, ma soprattutto ancora una volta ringrazio il professor Fabio Zucca, sindaco di Belgioioso, per averci dato questa opportunità e averla condivisa con noi. Io ringrazio prima di tutto i Rotary Belgioioso Sant'Angelo che, se posso permettermi, è il mio Rotary nel senso che sono entrato come Rotariano nel Rotary Belgioioso Sant'Angelo. Quindi è con particolare affetto che oggi la città di Belgioioso accoglie nuovamente questa bellissima iniziativa fatta, posso permettermi, dal nostro Rotary ed è un'iniziativa particolarmente che va incontro alle esigenze della cittadinanza perché è un'iniziativa che ci ha permesso di ridare vita ancora una volta a questo parco, questo parco che è stato fortemente voluto quasi una decina di anni fa attraverso una convenzione pubblico privato per dare proprio una polmone verde d'eccellenza alla città di Belgioioso. Purtroppo la crisi pandemica ne ha provocato la chiusura temporanea, l'auspicio è che a partire dal prossimo settembre finalmente potremo riaprire in sicurezza il parco, dico anche che lo doteremo di un sistema di videocamera in modo da almeno tentare di evitare gli atti vandalici che ci sono stati e che hanno provocato la distruzione del percorso che prima era già stato realizzato e devo dire non ho bisogno di dire come questo parco sia un evento eccezionale ed emozionante che non deve essere solo riservato a chi vede ma anche a chi purtroppo non ha questo dono se posso esprimermi in questo modo ma che è messo in condizione grazie a Rotary di approfittare di questo straordinario rapporto tra l'uomo e la natura. Io penso che quello di oggi sia un gesto molto importante che come ho spesso modo di dire in questi mesi in verità in questo anno e mezzo ci proietta verso il futuro cioè quello che il Comune di Belgioioso oggi sta realizzando e ringraziando il cielo stiamo realizzando parecchie iniziative, parecchi interventi, li stiamo tutti facendo in quest'ottica cioè per costruire il post pandemia che è un po' un modo diverso di porsi rispetto a c'è la pandemia dobbiamo affrontarla, sì dobbiamo anche affrontarla ma dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo costruire il futuro. Ieri abbiamo celebrato i dieci anni della titolazione del Comune di Belgioioso a città fatto dal Presidente della Repubblica che mi consegnò dieci anni fa l'attestato per cui Belgioioso è diventata città e pur non potendo organizzare cerimonie o altre cose di questo tipo i due sindaci viventi speriamo ancora per qualche anno hanno ricordato questo evento e soprattutto abbiamo fatto queste riflessioni cioè Belgioioso è stata costruita nei secoli del lavoro dei belgiosini in verità non solo ma insomma da chi questo paese, questo territorio l'ha vissuto e noi crediamo che il loro frutto sia stato il fatto che Belgioioso sia divenuto città e noi dobbiamo lavorare per consegnare, per costruire qualcosa di meglio ai nostri figli, alle nuove generazioni ed è per questo che ci stiamo impegnando in questi anni e mezzo o due proprio in questa visione per costruire il futuro e il parco di Villa Trespi rimesso nuovo con questo nuovo percorso ridisegnato e ricostruito ecco guarda verso il futuro e quindi penso che questo sia il percorso che Rotari, Comune, altre associazioni, cittadini devono fare insieme guardando al 2022, 2023, al 2050, al 2100, al 2300 eccetera eccetera buttiamo il nostro seme e costruiamo insieme, grazie altri due ringraziamenti, vorrei ringraziare l'amico Alessandro che dopo con me farà il giro di questo percorso e vorrei ringraziare Caterina Colombini di Arte Danza perché lo vedrete nel filmato lo vedrete ci ha costruito insieme alle sue ragazze un momento meraviglioso, emozionante e toccante con le sue ballerine che hanno danzato in questo meraviglioso parco simbolicamente dal presidente di quest'anno del Rotari affido al presidente dell'anno prossimo che è qui con noi, il dottor Piero Carena, questa meravigliosa creatura che abbiamo costruito tutti insieme